di questo spazio. Io sono curatrice indipendente di un collettivo che si chiama Locals, di cui spesso si sbaglia il nome e forse questa cosa anche ci piace perché Locals significa al tempo stesso luoghi, abitanti, comunità, storie, quindi lavoriamo a livello size specific situato nella città di Roma. È un programma artistico che produce nuovi lavori così come sarà la performance che faremo con Feel Good e di cui parleremo stasera e oggi presentiamo tra l'altro oltre a questa conversazione c'è il film Lucciole che in parte abbiamo già visto alcuni di voi ed è però in loop fino alle 7 di sera, dura 8 minuti quindi assolutamente accessibile come visione. Dicevo siamo un collettivo indipendente, lavoratrici indipendenti, precarie della cultura, lo sottolineo perché gli aspetti economici saranno importanti da sottolineare anche dopo all'interno come sono regolati dentro Feel Good e noi agiamo poi nella sfera pubblica, nello spazio pubblico, altro argomento che toccheremo più tardi anche durante il talk perché questioniamo, criticizziamo lo spazio pubblico da più punti di vista, uno spazio che è tutt'altro che neutrale, uno spazio che è ancora bianco, eteronormativo, patriarcale, in cui alcuni corpi sono tutt'altro che tutelati, riconosciuti, diciamo al sicuro. Quindi anche questi saranno argomenti di cui parleremo più tardi. Vado brevemente ad annunciare il fatto che questo programma pubblico all'interno del quale si inserisce questa conversazione si chiama if body, se il corpo. Quindi parte con questo se, apre la possibilità, il corpo quindi come si apprende attraverso il corpo, epistemologie quindi del corpo, pratiche artistiche e quindi il corpo proprio come metodo, come metodo di azione, metodo di partecipazione, metodo dell'esserci e corpo politico, sociale, ma anche affettivo, intimo. Quindi devo dire che questa conversazione oggi per noi è molto importante. Passo la parola a Marta. Grazie Sara e ciao a tutte e a tutti. Mi accodo anche io nel ringraziare Short Theatre. Vi introduco brevemente quello che fa il collettivo Feel Good Cooperative e poi passo la parola alle ragazze con la prima domanda. Feel Good Cooperative è un collettivo artistico che nasce durante l'inizio della pandemia, quindi nella primavera del 2020 a Roma, per iniziativa dell'artista Pauline Cornier-Jardin, della fotografa e sex worker Alexandra Lopez e dell'architetta e ricercatrice Serena Olcuire. E oltre a Alexandra, Pauline e Serena ci sono con noi anche Gilda Starr e Giulie che sono anche nel collettivo. E Feel Good Cooperative realizza delle performance, delle opere collettive che sono frutto di esperienze condivise. Quindi quello che vorrei sottolineare innanzitutto è che questa dinamica relazionale è fondamentale nel lavoro di Feel Good Cooperative e che è un lavoro che si struttura su dei momenti laboratoriali di formazione dove vengono di volta in volta approfondite delle tecniche artistiche che vanno dal disegno alla performance, alla lavorazione anche dei metalli e da quando Feel Good è nata a oggi le opere di Feel Good sono state esposte in diverse città, non solo a Roma ma anche a Berlino, a Bonn, a Genova e ad esempio lo scorso aprile la cooperativa ha partecipato a Colonia a una mostra collettiva intitolata Rully Kinship presso la Temporary Gallery dove ha esposto l'installazione The Death of the Pope e appunto come diceva Sara il 12 ottobre presenteremo una performance qui a Roma e ci tenevo a dire che la performance è coprodotta in collaborazione con due realtà di Praga che sono la Prague City Gallery e spero di pronunciarlo correttamente la Yinjik Alupetsky Society che è una realtà molto simile a Locales nel contesto di Praga è una realtà indipendente che lavora come noi tramite collaborazioni con diverse istituzioni del territorio di Praga e questa collaborazione e coproduzione nasce perché Feel Good sta preparando anche una mostra che inaugurerà a fine novembre a Praga. Ci tengo a citare anche la partnership con il Museo Macro dove è anche prevista una mostra di Feel Good prossimamente e niente, non ruberei altro spazio e passerei la parola alle ragazze con la prima domanda e la prima domanda che vorremmo farvi riguarda un po' l'inizio di questo percorso che vi porta qui oggi e la nascita quindi di Feel Good durante il primo lockdown, durante l'inizio della pandemia di Covid-19 che è stato comunque un momento di grande difficoltà per molte persone un momento di difficoltà che ha colpito soprattutto alcune categorie di lavoratrici e di lavoratori sicuramente tra le categorie più colpite c'è quella dei lavoratori e delle lavoratrici del sesso e quindi diciamo Feel Good nasce non solo come spazio di espressione ma anche come possibilità di immaginare delle economie alternative esatto e quindi niente, volevamo iniziare chiedendovi se vi andava di raccontarci come vi siete incontrate e con quali desideri ma anche aspettative per ciascuna di voi è iniziato, questo percorso è iniziato insomma vado io? che responsabilità grazie intanto a nome di tutta la cooperativa per questo invito io ma penso tutte siamo emozionatissime quindi siate molto clementi nel giudicarci e allora sì questa storia è iniziata con qualcosa di estremamente noioso cioè sto facendo una ricerca di dottorato sulle geografie del sex work quindi quello che a me interessava era come mai ci fossero dei corpi che nello spazio pubblico venivano considerati più o meno accettabili alcuni corpi erano legittimati a stare nello spazio pubblico e altri no e le sex worker in particolare mi affascinavano perché su di loro la città un po' si divide, si schiera sono dei corpi delle persone, dei corpi bramati da un pezzo di città ricercate continuamente e invece sono dei corpi che danno fastidio in qualche modo che perturbano un altro pezzo di città che quindi tende a cercare la loro rimozione e quindi su questo piano mi sembrava molto interessante provare a scoprire cosa ne pensavano invece loro qual'era la voce di chi stava in mezzo a questo conflitto eterno che poi aveva luogo nelle vie e nelle piazze romane e ho incontrato Alexandra e con lei abbiamo fatto un po' un lavoro di ricostruzione del suo percorso a Roma il suo percorso spaziale quindi i luoghi dove lavorava e i luoghi in cui abitava in giro per la città e come mai si spostava, cosa succedeva in quella fase della sua vita e così via questo percorso poi è finito in un libro che si chiama Indecorose pubblicità e però da lì insomma sono nate mille cose intanto io ho capito che al di là di queste due parti della città quelle pro e quelle contro in realtà in fondo intorno alle sex worker si tesse una quantità infinita di relazioni, situazioni, magie in alcuni casi veramente e ho provato un po' a raccontarla in quel libro tra queste magie poi siamo andate avanti e è arrivata Pauline io sono arrivata a Roma in 2019 ero borsista alla Villa Medici avevo un altro piano avevo altri progetti da fare non solo a Roma ma in tutta l'Italia e poi il Covid come lo sappiamo io ero lì praticamente per registrare e filmare processioni nel sud nel sud del paese, nel sud dell'Italia e poi il Covid ha certo ha fermato tutta questa ricerca che facevo già da 12 anni quindi non era nuovo era solo il fatto che ho traslocato qui per non essere più distante anche per essere nel terreno ma poi come il Covid ha fermato tutto un'altra cosa succedeva è che il mio lavoro ha presso un giro un giro ma che questo giro non viene solo da me viene della situazione viene anche del... non lo so come dire oggi ma il fatto che... ho pensato... no, veramente... ok, lo dico così perché è la verità ho guardato Mamma Roma di Pasolini come turista a Roma ma come amante del cinema anche e poi ho pensato ah, è interessante che questo personaggio una prostituta, madre come ti dice Mbody incorpora incarna una città così e come si dà a un corpo una città e poi ho pensato ah, ok, ma adesso chi non può più lavorare nelle strade chi mette il suo corpo il più nel pericolo della contagione sono le lavoratrici sessuali ma più di tutto di strada perché erano le due cose non potevamo essere in strada e poi non potevamo toccarsi e tutte queste cose ma poi di una maniera molto distante molto naiva tipo l'artista così ah, ho un'idea geniale vado a chiedere a delle lavoratrici sessuali romane di disegnare il loro lavoro e poi farò una mostra alla Villa Medici in cui c'era sempre delle prostitute prima che c'era qualche donna artista lì perché 50 anni fa non c'era una donna artista lì ma c'era tante prostitute perché erano modelli erano ragazze di gioia erano facevano come sappiamo l'ambiente e ma prima era una idea totalmente consettuale così a una epifania faremmo una mostra solo fatta dei disegni delle lavoratrici sessuali con la loro espertisa di che è l'incontro con un corpo e lo faremo con un inchiostro perché l'inchiostro o designare è il modo il più diretto del corpo alla carta e quindi devo dire anche che perché non parliamo mai di di stalker che ha messo che ne ha messo in contact e possiamo dirlo perché c'è una tradizione a Roma anche di artisti che lavorano fuori che lavorano nella città e quindi alla fine stalker che mi ha presentata Serena mi ha detto tu devi parlare con Serena il collettivo stalker sì il collettivo stalker e quindi Serena mi ha detto qua che ah sì qua che sembra uno stalker eh sì hanno un nome particolare sì ma è come un po' come noi cambia loro collettivo anche cambia di persone a facce variabile e quindi ho incontrato Serena sullo zoom e Serena mi ha detto ma tu devi incontrare Polet ma Polet Polet e sono Polina e quindi ho incontrato Polet che è Alex e forse tu Polet Alex puoi raccontare che succedeva questo giorno allora salve grazie di essere qui allora risulta che con Serena è tutto nato da come ha detto lei dalla sua tesi di laurea riguardo il suo progetto urbanistico che poi è diventato un libro il quale abbiamo già presentato in parecchie sale e continueremo a presentarlo oltre a questo progetto una cosa differente al progetto ma è stato il nostro primo incontro proprio per la sua tesi di laurea poi abbiamo trovato Polin e come ha detto lei quando mi ha parlato del progetto lo trovavo molto interessante perché comunque siamo un collettivo il quale magari voce non ne hanno in particolare in questo ambiente artistico si è visto tante volte che magari sulle sex worker parlano gli altri mai loro in prima persona mai che magari si rappresentano come ha detto lei in disegni nel film come in tante opere che stiamo portando a capo e che abbiamo già fatto e altre che abbiamo pure in progetto quindi quando lei mi ha parlato di questo progetto l'ho trovato molto interessante mi è piaciuto tantissimo mi ha detto di trovare un gruppo mixto tra noi tra le sex worker per farci un laboratorio e era molto molto diverso eravamo molto diverse tra loro e quando abbiamo fatto questi disegni il bello era perché ognuna tante nessuna aveva mai una capacità di disegno non è che però è stato bellissimo perché ognuna ha piastrato sulla carta ha piastrato sulla carta quello che intendeva lei per una marchetta c'è chi ha disegnato una prestazione sessuale c'è chi invece ha disegnato soltanto uno scambio di soldi c'è chi invece ha disegnato soltanto una ferma parlando con un cliente in macchina e quindi la diversità dei disegni è stata molto molto bella anche psicologicamente parlando poi l'abbiamo mostrato a Villa dei Medici dove è andata molto bene al punto che poi ci hanno dato l'opportunità a Berlino e anche a Avignon con la città di Bézzi ah ok però quella è venuta dopo della mostra poi abbiamo avuto uno spazio a Berlino dove prego no no volevo che mi venne calmi abbiamo avuto uno spazio a Berlino dove abbiamo potuto mostrare avevamo un anno di tempo dopo la Villa dei Medici avevamo un anno di tempo per prepararci per la mostra a Berlino nella quale abbiamo messo altre cose nel progetto come il corto che avete visto altri disegni il bello però è che per un anno i disegni sono stati messi in magazzino e da lì viene il bello perché poi è venuto un fungo che viene alla carta che si chiama sifilis quindi i disegni sono stati inundati da questo fungo che si chiama sifilis e ugualmente li abbiamo messi in mostra no? non ancora non ancora no è l'opera la più consettuale che abbiamo la più minima la più consettuale è una cornice con la sifilis poi da un disegno da una sex worker certo quindi il collettivo è andato avanti con dei disegni con delle stampe metalliche poi i disegni sono andati tutte incisioni i disegni il film dei podcast e le altre presentazioni che abbiamo fatto come quelle per i studenti del Surigo e tante altre presentazioni che abbiamo fatto piccole o grandi che sia comunque il collettivo continua a crescere ed è questa una cosa bellissima grazie a tutti voi dell'interesse e no solo per aggiungere qualcosa è che come più di invitazione che abbiamo avuto i due ultimi anni non quella di Locales è vero ma per esempio quella a Colonia o anche a Macro adesso abbiamo pensato di usare il budget per imparare una tecnica artistica che non conosciamo io sono l'unica che ha fatto l'academia dell'arte ma quindi ho pensato se impariamo insieme impariamo impariamo insieme una tecnica che io non ho mai imparato diventiamo anche non lo so abbiamo un'espertisa comune che facciamo che che attraversiamo insieme tipo l'incisione per la per la morte del Papa siamo andate da vedere il cadavvero di Benedetto XVI tutti insieme e poi abbiamo fatto un laboratorio di una settimana per imparare a fare incisione in cui questa incisione abbiamo documentato questo momento dei funerali e eh sì non so e poi Gilla ci vediamo qualcosa buonasera e Alessandra l'ha detto praticamente già tutto no che vi posso dire che non pensavo all'inizio che la cosa si fosse allungare così più di tanto e pensavo che eravamo stati chiamati da Pauline quel momento lì per darci un aiuto in quel momento di pandemia e finiva tutto lì invece piano piano lei con i progetti le cose che ha fatto le mostre ci ha portato a fare tutte queste altre cose e niente mi trovo benissimo con loro sono come come sono una cosa diversa dal mio lavoro da quello che io faccio ogni giorno quando mi trovo insieme a loro una piccola famiglia siamo come una piccola famiglia discutiamo di tutto di soldi di 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 chi c'ha ragione chi c'ha ragione chi c'ha ragione tra l'altro come come tutto no come tutti i mestieri come tutte le cose ecco e niente è un ambiente che mi porta fuori da quello in cui io sono abituata ad stare e per me è una cosa bellissima una cosa nuova anche trovare persone come voi che ci sentono che 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 ci tengono all'arte che ci tengono anche a quello che diciamo anche che pensate non lo so forse un po' diversamente del comune delle persone penso e che altro cosa dire sono agitata e non ho più parole per spiegarmi adesso magari più avanti se avete qualche domanda la rispondo e niente passo la parola a Gilda buonasera a tutti grazie di aver venito oggi qua veramente mi sento molto onorata prima di tutto per me questo della cooperativa che ha creato Polin ha sido qualcosa che è arrivato nel momento in cui io ero praticamente giù buttata già proprio là già pensavo che tutta la mia vita stava per finire con la pandemia e tramite Alessandra mi ha chiamato per dirmi che se mi interessava fare dei disegni su mio lavoro nostro lavoro rispetto a la strada perché ho lavorato nella strada e la cosa mi ha sembrato interessante soprattutto perché veniva pagata sì 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 ho dimenticato una cosa molto importante dall'inizio scusami è che l'idea non era solo di chiedere a lavoratrice sessuale di fare disegni sullo lavoro ma l'idea mia un po' di marchetta era era l'idea di marchetta sì era l'idea di marchetta quindi di pagare questi disegni al prezzo della marchetta che era ripresentata e questo era divertente esattamente esattamente riprendiamo da lì allora visto e considerato che la situazione stava proprio lì e io ho preso mi è piaciuta l'idea e ho detto vabbè mi metto lì la mia marchetta l'ha ripresentato su quando il cliente arriva che si fa la trattativa e dopo si mette al muro dei lamenti sì più o meno si fa la trattativa perché io ho lavorato tipo bomba la boscaggia così il cliente lascia la macchina viene da me ci mettiamo d'accordo su quello che si deve fare dopo di pagare uno si va e mette lì nel muro della mente contro la spalla e così vabbè da lì la mente vengono da soli no se lo potete immaginare dopo di questo e come ho detto prima il soldo è arrivato nel momento giusto e dopo così via ha continuato questo dopo abbiamo fatto altri lavoreti così come ha detto lei del Papa XVI abbiamo lavorato un'altra tecnica soprattutto si ha fatto uscire delle cose che non avevamo nascoste no di certe idee certe cose che praticamente noi consagrata un lavoro di strada l'altro era descontato per descontato si dava e vabbè piano piano tutto va benissimo guarda io sono di poche parole perché così non posso dire niente più grazie a tutti grazie grazie se posso solo raccontare una cosa sulle esattamente quello che hai detto adesso Gilda quando Gilda ha fatto questo disegno con i muri dei lamenti quindi c'è due disegni uno che si chiama prima si paga quindi vediamo la borsa vediamo i soldi e poi dopo quella che stai dicendo e voi vedete adesso che Gilda tu fai sempre il gesto e quindi Gilda che non aveva mai disegnato non lo so da quando e questo è una cosa molto tecnica adesso io vedevo Gilda che si ricordava suo corpo stesso girando così e cercando di ripresentare le sue spalde così suo brazzo così suo culo così l'altro dietro l'albero qui e quindi c'era tutto questo percorso di memoria che per me era una cosa stupenda ma veramente stupenda perché non lo so lavorare così sulla memoria di un'espertisa del corpo perché siete lavoratrici del corpo con un'espertise grandissima di come si fa come si mette il piede come si mette il muro che non lo so che subito era su un disegno una cosa dirlo e altra cosa farlo anche se è meglio farlo meglio farlo però volevo sì visto che stiamo parlando appunto adesso Polin citava questa memoria del corpo e abbiamo parlato già dei disegni ma qua in visione c'è un c'è un video c'è un film e di nuovo il corpo all'interno di lucciole non lo vorrei spoilerare per chi non l'ha ancora visto però è un corpo che a volte è molto nascosto altre volte è illuminato dai fari nella notte questi spot che si accendono a volte è un corpo che freme altre volte è un corpo che osserva ed è osservato quindi c'è questa duplicità continua dello stare nella strada dello stare nello spazio pubblico prima Serena citava corpi decorosi indecorosi e questa questione per chi è una lavoratrice del sesso è una questione centrale fondamentale come si sta nello spazio pubblico e anche all'interno poi del campo artistico in questo caso di nuovo lo diventa e quindi come il film lucciole cioè raccontateci un po' come è nata l'idea chi l'ha scritta come è stata filmata girata come avete costruito questi otto minuti e quali erano anche le urgenze cioè cosa volevate dire allora la scritta la le lavoratrici sessuali stesse non espressivamente noi ma è una cosa che ho visto una serata nella strada tornando da da Anzio della notte all'estate poi ho avuto questa visione di non lo so una cosa bellissima di due secondi questo spettacolo stupendo che era più bello che questo che ho visto prima al cinema quindi la mia macchina ha illuminato un corpo che in tre secondi mi ha dato più d'effetto che non lo so la retrospettiva di non lo so chi no sto perdendo le mie referenze vabbè David Lynch non lo so e quindi tre settimane dopo abbiamo avuto un pranzo tutti insieme un pranzo di estate così per vederci e poi timidamente perché a questo momento non eravamo ancora così compatte sì compatte ho detto timidamente a te Alex sì ti ho detto ah ho visto queste creature sulla strada è bellissimo e poi tu mi hai detto eh vabbè noi che lo facciamo e la nostra cosa di illuminarsi con le torce quindi ho capito che non era la mia macchina solo era anche le lampadine e poi e poi tu mi hai detto mi ricordo che eravamo via delle mandrioni voi eravate davanti e io avevo il cuore che batteva perché ho pensato wow ok lo facciamo e quindi non lo so un mese dopo abbiamo organizzato la ripresa primo ho trovato i soldi da da Berlino e poi dal nord è stato però molto importante rappresentare le luciole sapete che le luciole comunque sia solo qua in Italia perché non credo che sia mondiale il nome che le danno le skates worker luciola viene da anticamente quando lavoravano fuori dalla città nelle strade lontane dalla città che erano buie quindi si accompagnavano da una luce da una dal fuoco da una lampadina tuttora ci sono delle trans che lavorano per strada magari quelle che lavorano sulla Cristoforo Colombo dalla pineta loro usano una lanternina perché lì non ci sta la luminosità stradale quindi usano una lanternina per farsi capire o per mostrare il suo corpo alla macchina che sta venendo quindi associare le luciole alle sex worker questa era una cosa che aveva fatto Pasolini però Pasolini sexualizza il corpo noi non l'abbiamo mercenario non era un corpo mercenario in quel momento nel film abbiamo voluto rappresentare ognuno poi dare una rappresentazione di un corpo perturbante a chi piace c'è chi non piace c'è chi è neutro quindi nel film penso e abbiamo voluto dare la rappresentazione proprio della luciola sia del corpo perturbante dell'animale luciola e dell'essere neutro che magari non può dare fastidio a nessuno e questa è anche la vita di una di una sex worker di una luciola che c'è chi piace c'è chi non piace c'è chi invece non interessa e nel film volevamo rappresentare questo che era molto importante si possa aggiungere una piccola cosa secondo me cioè io quando ho visto per la prima volta il film ho pensato che mi stavate facendo vedere come anche il buio era uno spazio in qualche modo e il film avete visto ha girato non so se avete riconosciuto la zona di Roma comunque ovviamente è stata segnalata dalle protagoniste è stata scelta dalle protagoniste ed è una delle tantissime zone della città che sono molto selvatiche in cui c'è una grandissima presenza di verde ma di verde incolto di verde in selvaticito non sono i bei parchi del centro e un po' questo spazio del selvatico in qualche modo anche dai vostri racconti esce fuori spesso come è uno spazio di possibilità di esistenza di presenza di relazione e in qualche modo appunto il buio se vuoi è il tempo del selvatico e a suo modo è uno spazio in sé ecco e questa cosa per qualcuno che riflette sulla città ecco è veramente importante no? l'idea che ci siano degli spazi che puoi spegnere o abbandonare pensando che quello che quell'atto lì crei una possibilità in qualche modo e quindi non so grazie per questa lezione un dettaglio è che è girato sulla via apiantica quindi era anche l'abbiamo scelta apposta la via apiantica sì sì pensando anche di riprendere i luoghi dove non lo so molto cinematografiche come anche Roma era sempre passava il commercio c'era un grande scambio di merce di soldi anche i corpi gli schiavi e tutto l'ambaradano quindi per quello abbiamo scelto la via antica era molto molto importante molto suggestiva come via poi magari voi l'avete passata di giorno ma di notte alle due del mattino alle due di sera è wow è fantastica è diversa magari per una persona come voi che non è abituale andare da quelle però per una sex worker che va proprio incontro a come dici tu anche il buio lo fa esplodere di luce perché è normale che è molto normale che una sex worker che lavora fuori dalla città sceglie proprio il buio la parte buia e quindi per chi fa film come io era anche una lezione enorme perché ero con una team che non aveva paura del buio lo cercate voi lo cercate il buio ma anche sapete sapete esattamente come fare nel buio praticamente non lo so dove si quindi questo era per me una una scoperta si dice una scoperta enorme tipo dove si sedia dove si fa la pipì dove si beve dove non lo so come trovare le cose nel buio nella periferia si si no no era una cosa ero molto impressionata di questo voi avete qualche domanda? qualunque domanda volete noi ci siamo magari c'è un'ultima domanda noi e poi apriamo ok e visto che parlavamo adesso della via Appia invece io passerei cioè userei quest'ultima domanda per chiedervi di introdurre un po' il lavoro che presenteremo invece a EUR che è un'altra zona di Roma molto diversa dalla via Appia è un quartiere chiaramente di fondazione fascista è una zona dove tra l'altro noi di Locales lavoriamo da diversi anni è un quartiere dove si intrecciano comunque storie molto diverse tra loro e contrastanti oltre a chiaramente tutti i simboli del fascismo del colonialismo italiano è anche stato è un luogo di speculazione di Lizia è un luogo comunque in parte anche forse dimenticato dagli abitanti di Roma Centro e quindi volevo noi andremo lì con voi il 12 ottobre che è comunque anche una data particolare perché in molti paesi è la data del Columbus Day quindi volevo chiedervi se vi andava di raccontarci cosa state preparando e quali sono le riflessioni che vi stanno guidando in questo lavoro che stiamo facendo sì faremo una performance no e su su un po' la scoperta dell'America che è quel giorno lì e anche sui corpi come si prendono si prendono anche uno spazio dove ci sono stati dei monumenti dove ci sono stati fatti dei monumenti così rigidi così duri no fascisti anche un corpo che non è come si dice non è non è un corpo abituale si può si può si riesce a prendere anche questo spazio qui no e niente faremo una performance ecco che parla su questo ci sarà anche la scoperta dell'America no e poi 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 scusate sulla scoperta dell'America faccio dico una banalità ma ovviamente la via Cristoforo Colombo il Columbus Day perché ci sarà sulla Cristoforo Colombo sì ok e delle sex worker colombiane non so se sapete da dove viene il nome è Columbia ecco cioè c'è un è proprio un quacerbo un minestrone già già di riferimenti pazzesco insomma molto molto potente già già sì non lo so se li posso dire quello che vogliamo può fare no niente che altra cosa e niente dobbiamo andare a fare il sopralluogo ancora per vedere dove sarà fatto siamo all'inizio insomma di questa performance basta si riprendo quello che stava dicendo Giuliana sulla questione dei monumenti e dei corpi che mi sembrava super interessante cioè l'EUR ti dà sempre questa impressione di essere quasi un luogo un quartiere di pietra no un quartiere senza corpi e dove gli unici corpi che ci sono sono quelli appunto in travertino in marmo sono i corpi pietrificati in delle posizioni in delle forme ideali no però vedi queste cose io le ho scoperto per esempio adesso io si passavo per l'EUR fino a una settimana fa dieci giorni fa io queste cose non le sapevo non le sapevo che vi devo dire e stando insieme a loro ho scoperto sono andato a vedere a guardare un po' la storia e ho capito un po' su quello che dobbiamo lavorare e anche la storia che è bello anche sapere queste cose no? sì ci sta un po' però non è che non è che ci ho fatto mai caso per dirti ho fatto un confronto dell'EUR con i Parioli o dell'EUR con Centocele non ho mai fatto un confronto nell'archeologia come si dice architettura sì nell'architettura di come era fatto l'EUR a come era fatto Parioli non mi ero mai fatta questa domanda non mi avevo mai posto questa cosa qui capito? adesso che sto stiamo rovinando la vita però cioè l'altra sera era il compleanno di Alexandra noi ci stavamo prendendo una birra a Pigneto e ci siamo messi a parlare di architettura razionalista già cioè forse forse stiamo facendo danno ecco non so adesso va anche bene no? imparare visto che abito qua a Roma da 24 anni va anche bene imparare anche queste cose no? certo è anche interessante voi che sapete sul tema che studiate queste cose che ci imparate anche a noi no? queste cose una cosa per me è importante anche verla poi abbiamo scelto l'EUR Cristoforo Colombo perché da decenni la Cristoforo Colombo è il nucleo delle lavoratrici sexuali dei sex workers sia trans o donne anche se altre zone di Roma si sono estinte l'EUR Cristoforo Colombo rimane sempre un punto di riferimento per le sex workers quindi abbiamo scelto la Cristoforo Colombo per tantissime ragioni perché la scoperta dell'America perché Colombo è quello che ha scoperto Colombia si chiama Colombo per Colombia perché pure noi eravamo colombiane perché anche noi quando lavoravamo per strada tutti noi abbiamo lavorato sull'EUR Cristoforo Colombo perché comunque l'EUR è nato come un quartiere fascista sapete che è nato dopo per l'architettura che è proprio fascista come potete vedere pulita per chi piace c'è chi piace molto pulita molto fredda se vogliamo dirlo molto imponente quindi abbiamo scelto proprio di fare questa performance che sarà un possesso del territorio con dei nostri corpi perturbanti con la permissione con il permesso con il permesso sì in che senso con il permesso come dire amministrativo ah ok sì con il permesso amministrativo non più come rivendicazione del territorio quindi pensiamo abbiamo in mente di fare questa performance sì non sapremo ancora cosa ci inventeremo ma sarà qualcosa di fantastico non ve lo perdete grazie 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 per la produzione per aver raccontato dal vostro punto di vista proprio la complessità e tutti gli aspetti intorno a quello che è anche un lavoro che diventano e che sono arte stessa invece la mia domanda era una cosa che di cui avete parlato ora rispetto adesso tu dicevi che molti luoghi che storicamente erano popolati anche da sex worker non sono sempre meno e mi chiedevo rispetto al fenomeno della gentrificazione se avete visto appunto il diminuire posti dove poter stare perché magari in determinati luoghi era più richiesto un determinato tipo di decoro e invece perché paradossalmente in un quartiere fascista fascista cioè d'origine fascista e poi mi viene da dire anche coloniale visto tutto il discorso Cristoforo Colombo cioè mi sembra una grande contraddizione e quindi mi chiedevo cosa ne pensaste voi prima di tutto del detto a fatto va beh c'è una distanza terribile però perché i uomini che sono fascisti che hanno questa idea così che non voglio proprio mettermi lì però loro predicano ma non praticano perché nel giorno parlano di questo però la notte vanno lì no a queste cose lì secondo si è vero in un tempo fa tanto tempo fa avevano tante e Roma era molto bella in quella epoca perché aveva abbondanza di tutto di uomini per noi no di uomini soldi tante cose belle allora era molto Roma era da tutti come dice il detto tutti portavano lì anche tutte le strade portavano da noi adesso oggi per oggi invece si hanno aperto le case ecco perché le strade sono meno vuote da noi che lavoravamo perché adesso da tanto tempo che sono le case aperte dove si va con prenotazione dove tutto più apparentemente nessuno si dà cuenta di lo che sta facendo l'altro perché entra qualcuno nadie sa dove va invece nella strada sì si sta lì si vede questo quell'altro però comunque vada come vada sempre la cosa sigue uguale sempre siamo lì allora riguardo i quartieri alle zone che ormai si sono estingue perché questo è successo da sempre certe zone da sempre sono state in possesso alle prostitute nonostante ci siano stati dei cambiamenti tutto poi io non mi stancherò mai da dire che in Italia la prostituzione non è che sia regolare non è permessa ma è permissiva se dà fastidio la spostiamo o la copriamo con qualcosa quindi riguardo ai posti alle piazze sono sempre state in movimento cambiate al di là di quelle due o tre che sono sempre state fise come conosciamo la Cristoforo Colombo che penso che sarà a vita sarà così non faranno mai nulla fanno delle cose quando c'è un cambio di governo questo sì o si spostano un po' più là o quando c'è un cambio di governo lì si vediamo i cambi delle sex worker nelle zone quindi sì riguardo alle zone tutto dipende poi dal flusso perché ormai come si è spostato tutto nelle piattaforme digitali e quindi esiste anche la immigrazione sulle città sui paesi quindi magari le prostitute tante eravano erano nei tempi che eravamo costretti a stare per strada a tante di noi non c'era l'opportunità di emanciparsi quindi quello era quello che c'era era quello che dovevamo vivere adesso con tante opportunità perché anche il mondo della prostituzione ha tante facette dure e quindi c'è chi si è spostato nella parte digitale c'è chi invece va adesso per esempio parlo per le colombiane non tutte vorrebbero vivere in Roma e quindi vivono in Colombia vengono si stanno un po' raccolgono i soldini se ne vanno 3, 4, 5 mesi e se ne vanno e stanno tranquilli quindi anche la prostituzione anche il mondo delle sex worker è cambiato tutto quanto non è più la miseria che c'era una volta anche quindi ognuno poi si fa il suo cammino da solo c'è chi vuole migliorare c'è chi invece è rimasto lì perché non possiamo dire che non c'è più perché tante amiche mie ancora stanno lì quindi sì riguardo alle piazze tutto si evolge e si svolge secondo come vanno gli anni adesso la plateforma digitale poi ha fatto che tutto si spostasse si sconvolgesse che comunque va bene scusate questo è anche testimonianza di come vanno le cose adesso cioè io ho fatto tutta una ricerca in cui io facevo delle domande a loro e invece da quando abbiamo la cooperativa diciamo gli oggetti di ricerca sono diventati soggetti si autoraccontano ovviamente e in uno di questi momenti di autonarrazione di autoracconto Giulie secondo me ha raccontato una cosa molto bella ti ricordi a termine di Caracalla sulla differenza cioè le cose anche belle del lavorare in strada rispetto a lavorare in casa che io non immaginavo assolutamente se ce lo vuoi ripetere che prima quando lavoravamo per strada magari eravamo più unite no come gruppo eravamo più come come si dice come comunità no eravamo più unite perché uscendo tutte le sere ci vedevamo parlavamo scherzavamo stavamo sempre le solide nelle stesse strade quindi adesso che si è spostata nelle piattaforme dentro casa magari ci troviamo a stare che ne so io tutte le giornate dentro casa magari tutta la giornata da sola tante volte da sola tante volte col telefono in mano a rispondere al telefono e la unione come si dice la questa questa cosa qui la comunità che avevamo una volta non c'è più di tanto dobbiamo trovarla quando abbiamo il tempo e ci riusciamo tutti a metterci d'accordo no per per organizzare per dire una serata una cosa un incontro perché se no magari lavorando dentro casa adesso o il pomeriggio magari un appuntamento o l'altro quindi non ti ci riesci quasi mai a mettere mentre che quando lavoravamo per strada anche se no andavamo a pranzo insieme e ci trovavamo lì e scherzavamo eravamo una comunità ecco manca un po' quello adesso no ci manca un po' quello tanto io penso no no molto molto estesa adesso magari abbiamo formato più quelle che siamo più vicine continuiamo con quella comunque noi comunque il nostro gruppetto non ci siamo mai persi di vista non la conosci per dirti delle nuove generazioni che arrivano non sappiamo chi sono perché e avendo questo giro qui mentre che quando lavoravamo per strada se arrivava una una persona nuova le dicevi le potevi dare dei consigli o o o niente facevi amicizia o ecco io vi voglio spiegare una cosa molto importante nelle nostre noi diciamo comunità perché davvero noi transexuali formiamo comunità non soltanto qua in Italia la comunità la formiamo già da Colombia ed è una comunità molto molto compacta dove esistono le matriarche che ti indicano che ti indirizzano per per la strada in generale quindi quando lei parla le comunità prima sì magari perché come dice lei ci trovavamo per strada e quindi potevamo vedere chi c'era chi non c'era adesso con sia la plateforma digitale sia che la comunità sia un po' sparsa però non ci siamo mai persi di vista quelli che eravamo più unite continuiamo a essere unite nonostante ognuna sta per i fatti loro però quando c'è qualcosa di molto importante un decesso la morte di qualcuna qualcosa in un ospedale qualcuna in galera una sta male lì si vede la comunità lì sì che si vede perché tuttora tuttora è con compleanno lì che tuttora si vede sì perché la settimana scorsa questa questa mese ci sono stati tanti compleanni e la settimana scorsa c'è stato il compleanno di una di Parigi sono venute da Spagna da Parigi da Colombia da Francia dappertutto da lì ho visto se vede che ancora c'è una comunità molto forte perché come vi dicevo prima quando arrivava una nuova per strada la indirezzavamo alla matriarca o per esempio io non avevo voce non sapevo dove metterla a lavorare sempre si va e si indirizza una matriarca che è quella che ti dirà come comportarti quale sono le regole quale sono i pro e quale sono i contro perché come vi dico sendo una comunità non è che può arrivare una e mettersi lì dalla sera al mattino così siamo una comunità tuttora anche come dice lei molto fragile ma tuttora siamo una comunità in certe occasioni vedo che siamo una comunità se altre domande sì vieni pure qua ciao a tutti volevo sapere se in qualche modo questa esperienza sia del film che della cooperativa ha in qualche modo influenzato poi il vostro lavoro se e come e poi in realtà avevo anche una domanda alla regista che non so se si fa in tempo a fare due domande però come mai ha scelto di dare questo taglio estetico al film in cui non c'è testo è solo diciamo immagine e musica grazie a me si è influenzato no non è influenzato per niente perché la mia vita privata cerco di tenerla sempre sul privato e le mie cose private sul privato e il lavoro quello che faccio dentro una stanza lo faccio lì quella mezz'ora un'ora dopo di che finisce quella persona non la conosco tu dalla tua parte io dalla mia quindi questa esperienza non ha influenzato per niente il mio lavoro fino adesso a me sì tantissimo perché io poi sono fotografa e il mio ramo di fotografia è proprio l'escort io sono fotografa dell'escort quindi quando a me mi si è data l'opportunità che potevo fare qualcosa nell'ambito artistico cosa che veramente non avrei mai pensato di fare l'ho colta subito al bolo poi quando ho visto che ha preso piedi che era valutato come lavoro artistico certo che ha influenzato adesso per esempio come diceva lei io ho sempre fatto al di fuori della sex worker ho sempre fatto qualcosa ho accompagnato altri lavori credendomi artista adesso poi sapere che un mio disegno che un mio qualcosa sta in un museo mi rende tantissimo tantissimo di orgoglio e quindi sì che è certo che ha influenzato tantissimo la mia vita sia lavorativa che personale veramente per me il film mi è avvenuto così come posso dire così naturale per visto considerato che sempre l'ho fatto tutto questo allora solamente ho fatto uscire qualcosa che in quel momento voleva dare un po' trovare un po' di luce in più che dico di più grazie a me mi ha influenzato molto il lavoro anche a me è più perché il fatto non lo so se providenza magia la vita la chiamiamo non lo so come ma dal più lavoriamo insieme più sono sicura che l'intuizione che avevo che voi avete come lavoratrice del corpo un vero senso artistico adesso lo sto scoprendo ogni volta ogni giorno che lavoriamo insieme e nel film Lucciole non lo so se risponde alla tua domanda perché ero molto colpita della domanda che hai fatto sul cambio di lavoro per esempio e anche nella ripressa che ho capito tutte l'espertise artistica di voi tipo come si mette nella luce come si prende la luce che tipo di gioleria che tipo di scarpe che tipo di capelli che tipo di non lo so è che questo per me anche nella performance non ci sono tanti performer che sanno così bene fare con il loro corpo con gli accessori con i capelli from tip to to non so come dire della testa ai scarpe ai piedi e così che la ripresa di lucciole era per me una cosa molto 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 forte ma mi ha cambiata il lavoro sì molto perché non ci sono dialoghi la domanda che ti ha fatto lei chi ha fatto questo ah dialoghi non ci sono troppo dialoghi nei miei film comunque io sì i film discursivi non sono veramente la mia cosa anche perché la ragione forse perché siamo insieme che ho lavorato più di tutto con ok l'oggetto il soggetto del corpo ma anche con ballerine con la danza contemporanea con il teatro mimme puppe quindi le parole non sono troppo mia la mia cosa e anche non sono nel mio paese quindi la question delle parole sì perché con le lucciole i dialoghi sarebbero banali no